Ciao amici nottambuli, ieri notti ho visto uno dei film più trucidi della storia del cinema italiano, uno contro l'altro, praticamente amici, uscito ad aprile 1981 con due dei miei attori preferiti, anzi tre, Thomas Millian, Renato Pozzetto e c'è anche qualche comparsata indimenticabile di Bombolo. Sembra un film banale dove si mette a confronto il trucido romano con il Lombardo più ingenuo, ma qui ci troviamo di fronte a due colossi come Millian e Pozzetto, nulla può essere banale. Pozzetto è Franco Colombo, un ingenuo che eredita una ditta di carne in scatola e per evitare il fallimento, su consiglio dell'astuto avvocato della ditta, l'avvocato Randolfi, parte a Roma per consegnare una valigetta con 100 milioni, una bella mazzetta, nelle mani di un onorevole corrotto per ottenere un'importante commessa di forniture all'estero. L'avvocato è Alfredo Rizzo, già visto in tanti film di Corbucci, mentre invece l'onorevole è Leo Gavero. La valigetta con il denaro sparisce, ma Colombo incontrerà per caso Quinto Cecioni, detto Ormonnezza, appena uscito di galera, che lo aiuterà a ritrovare i milioni e soprattutto ad inserirsi meglio nell'ambiente della capitale. Insomma, è il giallo tipico della serie su Nico Giraldi, la variante appunto il personaggio del ladro Monnezza al posto di Giraldi e questo dà la possibilità a Milian e Corbucci di spingere al massimo sulla volgarità, che viene stemperata dal personaggio stralunato di Pozzetto. Esce fuori un capolavoro unico con Monnezza che porta Colombo in gita a Roma tra Osterie, Luna Park e Troie. E Cecioni ovviamente invita anche un nuovo amico a casa sua per un bicchierino notturno e coglie l'occasione per presentargli tutta la famiglia, moglie trucida, nonno scorreggione e il cognato travestito. C'è anche la bellissima Anna Maria Rizzoli nei panni della sorellina di Quinto che si differenzia dal resto della famiglia e qui nasce la storiella d'amore e Colombo si rigidisce vedendola tutta nuda. Fil come questi purtroppo non se ne fanno più, anche perché non esistono più comici di un certo calibro, come ad esempio Bombolo qui in una delle sue poche apparizioni al di fuori della serie Giraldi. Questa volta è Capoccione, identico in tutto al più famoso Venticello, a causa di una serie di situazioni sputerà in faccia Pozzetto una bella trippa gaiarda, un po' indimenticabile Bombolo che prende a testate le colonne di San Pietro. La colonna sonora affidata ai fratelli De Angelis sembra un best of degli Oliver Onions, a parte i titoli di testa hanno riciclato tutte le musiche da altri film, si sente Africa Express, I due super piedi, Pari e Dispari e altri ancora, ma comunque i brani dei De Angelis a me piacciono quindi ci stanno bene. Film assolutamente consigliato sia per i fans di Pozzetto che per quelli di Monnezza, non è il Monnezza originale dei film di Lenzi che si chiamava Sergio Marazzi, trucido ma un po' più serio, lo hanno chiamato ugualmente Monnezza, forse aggirando vari problemi di copyright, ma qui la volgarità è all'ennesima potenza. L'incasso i bottiglini fu più di un miliardo, evidentemente non è stato un capolavoro solo per me. Unico difetto, la fotografia abbastanza scura, molte scene sono in notturna ma potevano essere riprese meglio, almeno per come si vedono nell'edizione DVD che ho. Comunque un capolavoro unico, non perdetevelo, anche per questa volta è tutto, se non sapete che film vedere ve li consiglio o ve li sconsiglio io. Ci sentiamo alla prossima, ciao amici nottambuli!